Al mio nottario metto mano ogni giorno, scrivendo quello che è il contrario di un diario, se il «diario» accoglie le annotazioni diurne della percezione, il «nottario» rivela i soprassalti notturni del pensiero. Il mio nottario non è dissimile dal palè ideal del postino Ferdinand Cheval, assemblato pietra dopo pietra, notte dopo notte, in decenni di semifolle lucidità, è questo il mandato a cui devo obbedire. Senza libri a cui obbedire la vita perde senso, libri che siano sorgenti, matrici, inizi, come lo è questo nottario, crogiuolo di possibili opere in corso, dalla nota di Marco Ercolani. La foto di copertina è di Paola Mongelli. La foto in quarta di copertina è di Chiara Romanini.